musica 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 bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo non a grande richiesta perchè l'ho voluto fare io ma oggi siamo su minecraft windows 10 edition metal questo è solo un gioco di prova infatti durerà solo 90 minuti e per noi dureranno massimo due tre episodi dove io vi chiedo di farmi sapere voi cosa ne pensate se portarlo avanti se acquistarlo per farci serie su minecraft perchè minecraft perchè sono molto cioè mi piace molto come gioco per dire la verità adesso infatti guardo molte serie di molti youtuber famosi che non sto a citare allora come sto dicendo questo è solo una beta cioè è solo una possiamo dire solo una demo infatti durerà solo 90 minuti ci questo ci hanno detto lo so che lo sto ripetendo lo ripeto comunque mucca di merda o muri comunque stavo dicendo oggi noi andremo solo a prendere un po' di materiale a costruire un po' la nostra casa da costruire un po' la nostra casa qui c'è la nostra cisto per le cose iniziali penso che questa sia se non sbaglio una survival ehm questa se non sbaglio è una survival infatti ci hanno dato un'ascia di legna una pala di legna una spada di legna una cordicella una cordicella e una milla qui possiamo chiudere possiamo anche no la voglio tenere si è meglio se la tengo ehm oggi andiamo solo praticamente a costruire la nostra casa e però ci servono materiali per costruire la casa quindi noi andremo i pezzetti di terra li prendiamo ora andiamo verso andiamo davanti perché perché andiamo davanti semplicemente perché davanti c'è una città c'è una città useremo la città per prenderci attrezzature non materiali torce tutta questa cosa pensato di giocare a minecraft però ho visto molti video mi sto ricominciando ad appassionare e quindi ho deciso perché non portare minecraft qui ok qui ho messo la terra quindi c'è lento quindi penso che mi serve un altro che prenderò di sicuro prendo perché sto rompendo la casa del tizio semplicemente perché così ho già ho già bella e buona cioè già la vengo fatta allora sto praticamente distruggendo ancora la casa del tizio perché praticamente mi servono tutte le attrezzature possibili immaginari per creare una piccola casetta anche solo per mettere un letto e una cesta degli altrezzi un tavolo da lavoro ecco lo mi ha in mente la parola tavolo da lavoro quando a volte mi partono i 5 minuti e mi scopo tutto lascio qua a parte lascia quasi distrutta un po' di materia scusa ti ho rotto un po' casa un po' lui guarda dice cosa stai creando è distrutto una casa abbiamo fatto niente tanto in una casa ultima cosa abbiamo pure la scala è ottimo sto usando i blocchi di terra perché se non si rompe tutto cioè si rompe e lascia infatti già si stava a rompere a parte per oggi credo che sia solo questo solo prendere oggetti fare questa cosa prendere tutti gli oggetti possibili ed immaginabili qui faccia del tirotto oggetti possibili immaginabili però per costruire la casa che comunque ci serve per costruire la casa i migliori abbiamo preso 39 assi ok ho sentito una porta che si apre la porta mi serve dove la porta? scusa posso romperti la porta? si tanto tu mi ancora uso ok grazie ne prendiamo giusto altri 2-3 pezzi perché comunque la cosa io la faccio abbastanza piccola c'è un'ora che comunque sarebbe niente la falla grande ora non parliamo quello che discutiamo tanto via ok torniamo nella nostra piccola dimora a costruire i nostri la nostra casetta la pecore mi serve per fare il letto pecore ucciso una pecore mi sono accattivo cattivo oh va bene allora noi tranquilli non vi farò vedere tutto il tragetto infatti tra 3 2 1 eccoci qui ragazzi siamo arrivati magia dell'editing editing non mi veniva la parola la magia dell'editing médico questa che penso che stia sbagliando è che qui devo fare tutto tavimento 26 tutto tutto via ì tutto via ci vediamo fra poco quando avrò finito la razione eccoci cui ragazzi ho appena finito di levare tutta la terra da acqua terra o praticamente allevata tutta tutta questa fila che penso che farò la casa che sarà fino qua qua ok qui mettiamo il primo pezzo perché comunque noi ragazzi noi ci vediamo comunque lavoro finito quindi ci vediamo fra pochissimo ecco qui ragazzi ho iniziato già diciamo a pavimentare tutta casa questa sarà la lunghezza di casa tutta la lunghezza della casa beh non penso che sia piccola per lì per iniziare infatti penso che sia abbastanza grande molto grande ho detto da qui inizia tutto c'è da qui inizia a casa iniziamo già a fare ad alzare qui facciamo i primi pezzi facciamo alta per per 3 penso che basta se stavo dicendo per 3 penso che basta sì sì basta basta se stavo faccio se stavo faccio se abbiamo la porta benissimo ottimo abbiamo anche la porta non so perché ho fatto vabbè ragazzi comunque questo è l'inizio del nostro minecraft ho sbattato che ora mi metto meglio devo alzare anche qui qui devo alzare per esempio una casa di vero è molto grande comunque ragazzi bene ragazzi stavo dicendo per oggi è tutto questo è l'inizio della nostra piccola casa io intanto continuo a registrare continuo a registrare cercando altri altri oggetti per la nostra casa giusto per continuare a fare questo è l'inizio io cercherò solo degli oggetti inizierò già a fare per esempio poi il metodo tutto io ho messo tutto più di mezzo mi paremo assieme per oggi che è tutto io vi dico, intanto di scrivermi sotto nei commenti, un po' per darmi una mano, scrivete qui sotto nei commenti per nuovi abbellimenti dove trovare altri oggetti unici, come creare cose ovviamente, perché in principi ancora non so creare bene le armi, quindi per questo è tutto, io vi dico ciao lupi, ciao lupacciotti, ciao lupacciotti, condividete, commentate e iscrivetevi e mettete mi piace, noi ci vediamo ad un prossimo video, bella raga!